Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui nel mio spazio video. Oggi, dopo che me l'avete richiesto davvero in tanti, vi parlo di nuovo di musica trap, di mix di musica trap e in particolar modo di come tratto il kick nella trap, che è comunque un elemento molto importante insieme alla 808. In merito ognuno alla sua filosofia, io personalmente penso che il kick nella musica trap deve essere veramente molto punching, ovvero a differenza magari di un kick, di un brano pop, indie pop, rock, dove un kick un po' più areoso, un po' più sulle bassissime ci può star bene, quindi più morbido, invece nella musica trap secondo me il kick deve avere veramente il punching, quindi deve essere abbastanza quadrato il suono, fatemi passare il termine, in modo che poi insieme alla 808, che dal mio punto di vista deve lavorare un po' più in basso, intorno ai 30-40 Hz, quindi avendo un kick che si muove un po' più sulle medio-basse, principalmente lo faccio lavorare, vado a lavorare tanto fra gli 80 e i 160, dove appunto si tende ad avere quel suono un po' più punching, quindi più duro, se così lo vogliamo chiamare, che insieme poi alla 808 tende a creare quel gioco piacevole di kick che burca il mix e poi la 808 che arriva un attimo dopo ovviamente anche per un discorso di sidechain. Utilizzo il sidechain, sì, sulla 808, in modo da far emergere il kick, in special modo il transiente del kick, il sidechain lo faccio solitamente con un compressore nativo di Pro Tools, che è molto molto veloce, quindi mi permette di abbattere, tra virgolette, i transienti più veloci. E poi, quello che tendo a fare sul kick principalmente è sgonfiarlo leggermente intorno ai 40 Hz, se, come dire, eccede, perché a volte comunque dipende anche come mi arriva il kick, lo sgonfio leggermente intorno ai 40 Hz, tendo a comprimerlo con un attacco lento e un rilascio medio-lento, in modo da tirare fuori ancora di più appunto la parte del transiente alta e medio-bassa, e poi, se è necessario, busto un attimino sugli 80 e sui 160. È la zona, attenzione ragazzi, cioè, più o meno parlo fra 80 e 160, poi magari può essere 75, 140, cioè dipende poi, è importante, dove il kick suona bene, ok? Quindi dovete fare delle prove, non sono dei numeri assoluti, è una zona dove riesco ad ottenere quel tipo di suono. E poi, dopo, se è necessario, dopo dei busto, tendo a tagliare un pochettino di madness intorno ai 250, per arrotondare un pochettino il tutto. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Se volete approfondire proprio il discorso trap, su Improvior Mix trovate due videocorsi dedicati alla trap, uno mio e un altro del collega Icaro Tealdi. Poi c'è questa nuova novità che, appunto, da un paio di settimane è possibile abbonarsi annualmente con pagamenti mensili, quindi abbiamo cercato di rendere Improvior Mix accessibile un po' a tutti. Bene, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo vlog. Ciao a tutti!